Buonasera dall'anno ETA, dove sta per iniziare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sta per iniziare Real Sociedad Roma. Eccolo il tocco dietro per Dybala, il tiro di Paolo De Viedo fuori! Pallone a Yarsapal, Merino al limite, il tiro, Rui. Pronto Paolo. Eccolo il cross in mezzo, sfida il pallone! Go! 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 Chris! 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 Attenzione però. Attenzione, c'è da vedere. Annullato? Vediamo un po' se è stato... Rui lo sta parlando con lei. Annullato, annullato sì, purtroppo. Annullato il gol. Sempre al vertice, il cross in mezzo, Sarlat è solo un colpo di testa fuori, mamma mia. Fina di fondo, il cross basso in mezzo, deviato, spizzato, il tiro, Zalewski. Eccolo il cross in mezzo, Yarsapal, il tiro, respinto da Rui, ancora attraversa e poi Rui! Incredibile! Incredibile, Alessandro! Silva ancora per Bryce Mendez, lina di fondo, il cross in mezzo, colpo di testa fuori! Il cross in mezzo, Cristante a pulire, Fischietto in bocca per Kovacs, la palla finisce fuori, rimessa per loro. Infanto c'è una mezza rissa tra Fernandez e Smalling che viene abbonito, abbonito anche Carlos Fernandez che ha già abbonito, c'è il rosso. Fischia Kovacs, passa da Roma! Fischia Kovacs, passa da Roma!